La che dovevo incontrava la ragazza di tutti i artisti, in caso di cui si guida di 20 anni, in caso di cui si avanza, in una relazione più diretta, come si guida il rimani a la volta di usare questi tratamenti cittadini come una equivocazione che si deve lasciare molto comune. Si, 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 si. Nesta epoca in la quale in la quale sono i social networks, come si dice, i sociali? Sì! Sì! Sono importanti per arrivare rapido alla gente per se conoscere in un seguito a tutti. Io sono fanatica di questa maniera di connexarmi al pubblico, anche credo che ser fanatico a livello tal sia bastante pericoloso. Non dico solamente per le persone che hanno una carriera, no? Però, in generale, passare tutto il tempo in fronte della computadora e essere ossessionale di questa maniera di vivere, credo che non è molto salutare. Adesso, io ho un sito che è aberto per le persone che si chiama laura4u.com il sito laura4u.com e i sociali entriano con il codice e io casi tutti i giorni chateo con loro. Qui c'è un rappresentante che vedo che riconosce. La rappresentante che sta qui si può dire che che è sbagliata dentro e è molto bonito per me con il concetto con la gente che mi ha cambiato la vita, no? E dopo che vi in un nuovo paese trato che sia possibile un incontro con tutte le persone perché voglio vedere che cara tiene la gente che mi escuta la gente sape che cara tengo io però io non so che che occhi hanno che vita facciano e facciano cose differenti con attitudini parecchi sono 靡i ragazzi